finivano di suonare gli ultimi rintocchi del mezzogiorno la porta della scuola si aprì e i ragazzi si precipitarono spingendosi per uscire prima ma invece di disperdersi rapidamente e di rincasare per il pranzo come facevano tutti i giorni si fermarono a qualche passo si riunirono in gruppi e si misero a parlottare e fatto è che quella mattina Simon il figlio di Blanchotte era andato a scuola per la prima volta tutti in famiglia avevano sentito parlare della Blanchotte e per quanto in pubblico le si facesse buon viso tra loro le madri la trattavano con una sorta di compassione un po' sprezzante che sarà trasmessa ai figli senza che si sapessero minimamente perché quanto a Simon non lo conoscevano perché egli non usciva mai e non andava con loro a far birichinate nelle strade del villaggio o sulle rive del fiume così non gli volevano bene e lo avevano accolto con una certa gioia mista a molto stupore ripetendosi l'un l'altro le parole dette da un ragazzo di 14 o 15 anni che sembrava la sapesse lunga tanto ammiccava astutamente sapete Simon sapete non ha il padre il figlio della Blanchotte comparve a sua volta sulla soglia della scuola aveva sei o sette anni era pallidino pulitissimo con un'aria timida quasi goffa se ne tornava dalla mamma quando il gruppo dei suoi compagni sempre parlottando e guardandolo con gli occhi maligni e crudeli dei bambini che meditano un brutto tiro la torniò a poco a poco e finì per accerchiarlo completamente egli rimaneva lì piantato in mezzo a loro sorpreso e imbarazzato senza comprendere che cosa volessero fargli ma il ragazzo che aveva recato la notizia inorgoglito dal successo già ottenuto gli domandò come ti chiami tu e gli rispose Simon Simon e poi insistette l'altro il bambino ripete tutto confuso Simon il monello gli gridò uno si chiama Simon e poi qualcos'altro non è un nome questo Simon e basta e lui sul punto di piangere rispose per la terza volta io mi chiamo Simon i monelli si misero a ridere il ragazzaccio trionfante alzò la voce vedete non ha papà si fece un gran silenzio i bambini stupiti da quella cosa straordinaria e impossibile mostuosa un ragazzo che non ha papà guardavano Simon come un fenomeno come un essere fuori della natura e sentivano crescere in loro quel disprezzo impiegato finora delle loro madri per la Blanchotte quanto a Simon si era appoggiato a un albero per non cadere e rimaneva lì come annientato da un disastro irreparabile cercava una spiegazione ma non riusciva a trovare nulla da rispondere a loro nulla per smentire quella cosa orrenda che non aveva papà infine livido gridò sì ce l'ho e dov'è? domandò il ragazzaccio Simon tacque non sapeva i compagni ridevano eccitatissimi e quei figli dei campi più vicini alle bestie provavano lo stesso bisogno crudele che spinge le galline di un cortile a finire una di esse appena è ferita Simon scorse improvvisamente un suo piccolo vicino di casa il figlio di una vedova che aveva sempre visto al pari di lui solo soletto con la madre nemmeno tu gli disse hai un papà sì rispose l'altro io ce l'ho e dov'è? ribatté Simon è morto dichiarò il bambino con fierezza superba è al cimitero il mio papà un morbolio di approvazione corse fra i monelli come se il fatto di avere un papà morto al cimitero ingrandisse questo compagno per schiacciare l'altro che non aveva papà né vivo né morto e quei birichini i cui padri erano per loro malvagi, ubriaconi, ladri e brutali con le loro mogli ci spingevano, si serravano sempre più come se essi, i legittimi avessero voluto soffocare in una stretta colui che era fuori legge d'improvviso uno di essi, che si trovava accanto a Simon gli mostrò la lingua con un gesto beffardo gridandogli senza papà senza papà Simon lo prese per i capelli con tutte e due le mani e si mise a tempestargli di calci le gambe mentre gli mordeva crudelmente la guancia si produsse un parapiglia enorme i due contendenti furono separati e Simon si trova colpito, graffiato, calpestato strisciato per terra in mezzo al cerchio dei monelli che applaudivano mentre si rialzava ripulendo con un gesto automatico della mano il piccolo camiciotto sporco di polvere qualcuno gli gridò vallo a dire al tuo papà allora egli sentì in cuore un crollo in mane erano più forti di lui l'avevano picchiato e lui non poteva rispondere perché sentiva bene che davvero non aveva papà pieno d'orgoglio per qualche attimo cercò di lottare contro il pianto che lo prendeva alla gola ebbe un sussulto poi si mise a piangere con lunghi singhiozzi che lo scuotevano tutto allora una gioia feroce esplose tra i suoi nemici e naturalmente come i selvaggi nelle loro allegrie terribili essi si presero per mano e cominciarono a danzare in tondo attorno a lui ripetendo come un ritornello senza papà senza papà ma un tratto Simon smise di singhiozzare la collera lo fece impazzire ai suoi piedi c'erano dei sassi li raccolse e li lanciò con tutta forza contro i suoi carnefici due o tre furono colpiti e scapparono gridando ed egli aveva un aspetto così formidabile che tra gli altri si produssa il panico vigliacchi come è sempre la folla di fronte a un uomo esasperato si sbandarono e fuggirono rimasto solo il piccino senza padre si mise a correre verso i campi poiché si era ricordato una cosa che aveva suscitato nella sua mente una grande decisione voleva annegarsi nel fiume ricordava infatti come otto giorni prima un povero diavolo che viveva di elemosine si fosse gettato in acqua perché non aveva più un quattrino Simone era presente quando lo avevano tirato a riva e la misera spoglia che gli sembrava volgarmente pietosa sporca e brutta l'aveva colpito per la sua espressione tranquilla con quelle gote pallide quella lunga barba gocciolante e gli occhi aperti calmissimi intorno qualcuno aveva detto è morto qualcuno aveva soggiunto ora è felice e anche Simone voleva annegarsi perché non aveva papà come quel poveretto non aveva denaro giunse vicinissimo all'acqua e la guardò scorrere qualche pesce guizzava veloce nella corrente chiara e di quando in quando faceva un piccolo balzo e acciuffava una mosca che volteggiava sulla superficie Simone smise di piangere per guardarli poiché quelle loro manovre lo interessavano assai ma a tratti come nelle tregue di una tempesta passano d'improvviso grandi raffiche di vento un pensiero gli tornava con acuto dolore mi annegherò perché non ho papà faceva assai caldo il tempo era splendido il sole splendente scaldava l'erba l'acqua brillava come uno specchio e Simone aveva minuti di beatitudine di quel languore che segue le lacrime minuti durante i quali gli veniva una gran voglia di addormentarsi lì sull'erba nel calore un rannocchietto verde gli salpò fra i piedi e gli cercò di prenderlo ma gli sfuggì Simone lo inseguì e sbagliò il colpo tre volte di seguito infine lo acciuffò per l'estremità delle zampe posteriori e si mise a ridere vedendo gli sforzi che la bestiolina faceva per scappare si raccoglieva sulle zampe posteriori poi con uno scatto brusco le allungava improvvisamente rigide come sbarre mentre batteva l'aria con le zampe anteriori che si agitavano come mani e l'occhio era tondo con un cerchio d'oro il ranocchio gli rammentava un giocattolo fatto con strette strisce di legno uniti a zigzag le une alle altre le quali con movimento simile comandavano le manovre dei soldatini che vi erano infissi allora egli pensò alla casa poi a sua madre e preso da una grande tristezza ricominciò a piangere brividi gli passavano nel corpo si inginocchiò e recitò le preghiere come prima di addormentarsi ma non poté terminarle perché i singhiozzi ricominciarono così fitti così tumultuosi da scuoterlo internamente non pensava più non vedeva più nulla intorno a sé ed era intento soltanto a piangere improvviso una mano pesante gli si appoggiò sulla spalla e un vocione gli domandò ometto mio perché ti disperi così simon si voltò un operaio alto che aveva barba e capelli neri e ricciuti lo guardava bonariamente simon rispose tra le lacrime che gli si affollavano in gola e negli occhi ne hanno picchiato perché io non ho non ho non ho papà come? disse l'uomo sorridendo ma caro tutti hanno il papà il bimbo riprese penosamente tra gli spasimi della sua angoscia io io non ce l'ho allora l'operaio si fece serio aveva riconosciuto il figlio della blanchotte e per quanto nuovo del paese conosceva vagamente la storia di lei via via consolati ragazzo mio disse e vieni con me dalla tua mamma te lo troveremo un papà si incamminarono il grande tenendo per mano il piccino e l'uomo sorrideva ancora perché non gli dispiaceva vedere questa blanchotte che a quanto si diceva era una delle più belle ragazze del paese e forse dentro di sé pensava che una donna giovane che ha sbagliato può sbagliare ancora arrivarono davanti a una casetta bianca assai pulita è qui disse il bambino e gridò mamma una donna si affacciò e l'operaio smise improvvisamente di sorridere poiché comprese subito che non c'era da scherzare con quella figliola alta e pallida che rimaneva sulla soglia severa come per impedire a un uomo l'accesso alla casa dove ella era già stata tradita da un altro intimidito e col berretto in mano egli balbettò ecco signora ho accompagnato il vostro piccolo che si era smarrito accanto al fiume ma Simon saltò al collo della madre e le disse ricominciando a piangere no mamma volevo annegarmi perché gli altri mi hanno picchiato perché non ho papà un rossore coccente coperse le guance della giovane donna e ferita fino nelle più intime fibre della sua carne baciò il figlio con violenza mentre rapide lacrime le scorrevano sul volto turbato l'uomo rimaneva lì non sapendo come andarsene ma improvvisamente Simon corse verso di lui e gli disse vuoi essere il mio papà si fece un gran silenzio la Blanchot muta e torturata dalla vergogna si appoggiava alla parete tenendo le mani sul cuore il bimbo vedendo che non gli si rispondeva riprese se non mi vuoi tornerò là ad annegarmi l'operaio prese la cosa in scherzo e rispose ridendo ma sì volentieri come ti chiami? domandò allora il bambino e così quando gli altri vorranno sapere il tuo nome potrò rispondere Filippo rispose l'uomo si montacque un secondo per farsi entrare bene in testa quel nome poi tese le braccia consolato e disse bene Filippo tu sei il mio papà l'operaio sollevatolo lo baciò bruscamente sulle guanze poi scappò in fretta a grandi passi quando il giorno dopo il bimbo entrò a scuola lo accolsero risate maligne e all'uscita poiché il ragazzaccio volle ricominciare da capo Simone gli buttò in faccia queste parole come gli avrebbe scagliato un sasso il mio papà si chiama Filippo urla di gioia zampillarono da tutte le parti Filippo chi? Filippo cosa? cos'è questo Filippo? dove l'hai trovato il tuo Filippo? Simone non rispose li sfidava con lo sguardo disposto a lasciarsi martirizzare piuttosto che fuggire davanti a loro il maestro lo liberò dai compagni ed egli tornò da sua madre per tre mesi l'operaio Filippo passò spesso accanto alla casa di Blanchot e qualche volta si faceva ardito fino a parlarle quando la vedeva intenta a cucire vicino alla finestra lei gli rispondeva cortesemente sempre seria senza mai ridere con lui e senza lasciarlo entrare in casa tuttavia un po' presuntuoso come tutti gli uomini egli si immaginò che spesso quando parlava con lui ella diventasse più rossa del solito ma una reputazione compromessa è così difficile da rifare e rimane così fragile che nonostante il riservo ombroso della Blanchot in paese si mormorava già qualche cosa quanto a Simone voleva un gran bene al suo nuovo papà e andava a spasso con lui quasi tutte le sere finito il lavoro frequentava assiduamente la scuola e passava tra i compagni con grande dignità senza rispondere mai a quello che gli dicevano un giorno però il ragazzo che lo aveva attaccato per primo gli disse hai detto una bugia tu non hai un papà che si chiama Filippo e perché no? domandò Simone vivamente turbato il ragazzo si fregava le mani riprese perché se lo avessi sarebbe il marito di tua mamma dinanzi all'esattezza di quel ragionamento Simone si turbò non di meno rispose è il mio papà lo stesso può darsi disse l'altro sogghignando ma non lo è del tutto il figliuolo di Blanchot curvò la fronte e se ne andò pensieroso dalle parti dove era la fucina di Mastro Loison Filippo lavorava lì quella fucina assai buia era come sepolta sotto gli alberi soltanto la luce rossa di un focolare enorme rischiarava con grandi riflessi cinque fabbri dalle braccia nude che battevano sulle incudini con un fracasso terribile stavano dritti infiammati come demoni con gli occhi fissi sul ferro rovente che torturavano e il loro pensiero lontano saliva e ricadeva all'unisono con i magli Simone entrò senza essere visto e andò piano piano a tirare per la manica l'amico questi si voltò subito il lavoro fu interrotto e tutti quegli uomini guardarono il piccino attentissimi allora in mezzo a quel silenzio insolito si levò la silevocina di Simone senti Filippo poco fa il figlio della Michaud mi ha detto che tu non sei il mio papà del tutto e perché no domandò l'operaio il piccolo rispose con tutta la sua ingenuità perché non sei il marito della mamma nessuno rise Filippo rimase in piedi appoggiando la fronte alle grosse mani poggiate al manico del maglio ritto sull'incudine meditava i suoi quattro compagni lo guardavano e minuscolo fra quei giganti Simone ansioso aspettava d'improvviso uno dei fabbri rispondendo al pensiero di tutti disse a Filippo però è una buona e brava ragazza questa Blanchotte è coraggiosa è piena di giudizio malgrado la sua disgrazia e sarebbe una degna moglie per un uomo onesto vero verissimo dissero gli altri tre l'operaio continuò è colpa sua se ha sbagliato quella ragazza ne avranno promesso di sposarla e io ne conosco più d'una che oggi è rispettatissima e che ha fatto come lei vero verissimo risposero in coro i tre uomini il primo riprese quanti sacrifici ha fatto poveretta per allevare da sola il suo piccino e quanto ha pianto da quando esce solo per andare in chiesa Dio solo lo sa anche questo è vero dissero gli altri sudivo ormai soltanto il mantice che ravvivava il fuoco della fucina bruscamente Filippo si curvò verso Simon va a dire alla tua mamma che stasera verrò a parlarle poi mise fuori il piccolo spingendolo alle spalle tornò al suo lavoro ed un solo colpo i cinque magli ripiombarono insieme sulle incudini batterono così il ferro fino a sera tardi forti possenti giocondi come magli soddisfatti ma come nei giorni di festa il campanone di una cattedrale domina sullo squillare delle altre campane così il maglio di Filippo dominando il fracasso degli altri si abbatteva ogni volta con un frastuono assordante e lui con l'occhio acceso forgiava appassionatamente ritto tra le scintille quando andò a bussare alla porta della Blanchotte il cielo era pieno di stelle indossava una camicia pulita e il camiciotto della domenica e si era rasata la barba la giovane donna apparve sulla soglia e gli disse con un tono dolente non è bene che veniate a sera inoltrata signor Filippo lui tentò di rispondere balbettò e rimase confuso di fronte a lei e la riprese dovete capire che non dobbiamo far parlare di noi allora lui di colpo che cosa importa se vorrete essere mia moglie nessuna voce gli rispose ma gli sembrò di udire nell'ombra della stanza il rumore di un corpo che si abbatteva entrò in fretta e Simon coricato sul suo lettino distinse il suono di un bacio e qualche parola che sua madre mormorava sommessamente poi d'un tratto si sentì sollevare dalle mani dell'amico suo il quale tenendolo con quelle sue braccia ercule gli gridò dirai ai tuoi compagni che il tuo papà è Philippe Remi il fabbro e che tirerà le orecchie a tutti quelli che ti faranno del male il giorno dopo mentre la scuola era il completo e la lezione stava per cominciare il piccolo Simon si alzò pallidissimo e con le labbra tremanti il mio papà disse con voce chiara è Philippe Remi il fabbro e ha detto che tirerà le orecchie a tutti quelli che mi faranno del male questa volta nessuno rise più perché lo conoscevano bene Philippe Remi il fabbro ed era un papà quello del quale tutti sarebbero stati orgogliosi grazie a tutti